La concimazione del terreno è fondamentale per avere crescenti soddisfazioni nell'orto. Sottovalutarne l'importanza per la fertilità è tra le cause più frequenti di insuccesso. In questa video lezione vedremo quali prodotti utilizzare e quando distribuirli per un accrescimento ottimale delle diverse specie e per accogliere ortaggi belli e sani. La concimazione è un elemento decisivo per la fertilità dell'orto ed è fondamentale per sostenere la crescita degli ortaggi. Per capire se è necessario mantenere la fertilità del suolo o aumentarla perché è povero di elementi nutritivi bisogna osservare lo sviluppo degli ortaggi. Piante forte e produttive testimoniano una buona fertilità mentre piante esili e poco generose indicano che il terreno è povero. Quando la fertilità è buona bisogna solo mantenerla con un apporto frequente di sostanza organica possibilmente in forme diverse. Anche le lavorazioni del terreno nel rispetto del suolo sono importanti per conservarne la fertilità e sono uno strumento per interrare la sostanza organica. Se gli ortaggi crescono a stento nonostante il trapianto nelle epoche corrette e l'utilizzo di piantine di qualità è un indizio che la fertilità è da incrementare. In questi casi gli apporti di sostanza organica dovranno essere molto più abbondanti e ripetuti nel tempo. Alcune forme di sostanza organica migliorano il terreno sia dal punto di vista biologico che fisico e chimico. La sostanza organica come letane, pollina, compost deve essere ben matura, cioè perfettamente trasformata per apportare solo benefici al nostro orto. La capacità di alcune tipologie di sostanza organica di migliorare la struttura del terreno trasformandosi in humus offre benefici ai terreni argillosi che diventano più soffici ed anche ai terreni sabbiosi che migliorano la capacità di trattenere l'acqua. I benefici della sostanza organica sono tantissimi. Arricchisce il terreno di microorganismi utili, stimola la radicazione, aiuta ad assimilare gli elementi già presenti nel suolo, limita gli effetti negativi di pH troppo alcalini o acidi. Le fonti di sostanza organica più facili da reperire e comunemente utilizzate sono letame maturo, stallatico, che è letame disidratato, pollina, cornunghia e compost, ma ne esistono anche moltissime altre forme. Il letame o lo stallatico sono i prodotti ideali per la concimazione di fondo in autunno. Considerando le quantità da distribuire nei fertilizzanti confezionati si faccia riferimento alle informazioni presenti sui sacchi, che solitamente indicano un dato più basso e un altro più alto. I valori più bassi sono ideali nei terreni più ricchi, mentre quelli più elevati in quelli meno fertili e per gli ortaggi più esigenti. Alcuni scarti di casa possono diventare un nutrimento per l'orto. Se i gusci d'uovo e fondi di caffè saranno sufficienti solo per poche peante, compost e cenere possono costituire un'integrazione interessante alla consumazione tradizionale. Affinché la sostanza organica possa apportare solo benefici, bisogna evitare di interrare residui organici e letame prima che siano ben maturi. Attendere sempre i mesi necessari perché si trasformino in composti dall'aspetto omogeneo. Naturalmente non è consigliato utilizzare cenere o compost provenienti da prodotti inquinati da sostanze tossiche. Per chi desidera coltivare con il metodo biologico e vuole arricchire il suolo con altri prodotti oltre a quelli tradizionali di cui abbiamo già parlato, esistono molti altri concimi naturali utili per integrare lo stallatico. Molti di essi hanno più pronto effetto rispetto allo stallatico e permetteranno di raggiungere facilmente produzioni significative e una migliore qualità anche nei terreni meno fertili. In commercio esistono concimi costituiti da un mix di queste materie prime, ideali per la concimazione sia di pretrapianto che in fase di coltivazione. La scelta del tipo di concime più adatto va fatta considerando le caratteristiche dei prodotti. Nel periodo ottuno-invernale si prediligeranno quelli utilizzabili dalle piante solo dopo mesi di trasformazione nel suolo, mentre subito prima del trapianto sono indicati quelli a più pronto effetto, utili anche per gli interventi in copertura, per gli ortaggi più esigenti. Nella concimazione di fondo autunno-invernale lo stallatico potrà essere distribuito a spaglio su tutta la superficie da lavorare e incorporato con la vangatura tra i 5 e i 15 cm di profondità. In pretrapianto, per gli ortaggi a frutto, è possibile localizzare i prodotti in buca affinché possano disporre di una quantità consistente di nutrimento. I fertilizzanti apportati dopo il trapianto vanno posti a una distanza di sicurezza dal fusto, almeno 5 o 10 cm, interrandoli superficialmente e facendo seguire l'irrigazione. La concimazione in buca è importante per gli ortaggi a frutto e può essere determinante negli orti dove non si è effettuata la concimazione autunno-invernale e nei terreni poco fertili. È preferibile concimare in buca due o tre settimane prima del trapianto, ma è possibile farlo anche subito prima di mettere a dimora le piantine. Abbiamo parlato spesso di specie più esigenti, ma quali sono? Si tratta degli ortaggi a frutto, quindi pomodoro, peperone, melanzana, melone, anguria, cetriolo, zucchino, ma anche sedano, cavolo, asparago e carciofo. Per tutte queste specie una generosa concimazione in buca favorisce una migliore struttura delle piante ed una produzione eccellente. Per effettuare la concimazione in buca bisogna scavare una conca molto più ampia del panetto di terra della piantina. Poi si inserisce il concime o il mix di fertilizzanti nella buca e si miscela con il terreno fine circostante, in modo che non possa recare danni alle radici. A questo punto si può trapiantare la piantina. Per ottenere un attecchimento più veloce è utile porre un pugno di terriccio e sabbia o in alternativa humus di lombrico o compost vicino alle radici. Questo accorgimento è particolarmente consigliato qualora il terreno fosse rimasto un po' grossolano. Per effettuare la concimazione in buca si possono scegliere diverse alternative in funzione dei prodotti che si hanno a disposizione, delle specie coltivate e del fatto che si sia fatta o meno la concimazione di fondo. L'importante è prevedere sempre la presenza di prodotti a pronto effetto necessari per un rapido sviluppo. Ebbene, non abusare dei concimi chimici, meglio utilizzarli sempre in abbinamento con i prodotti biologici o in alternanza con essi. Un utilizzo classico dei concimi NPK, ovvero con contenuto di azoto, fosforo e potassio, è quello in buca, due settimane prima del trapianto, con la sostanza organica per gli ortaggi a frutto, oppure interrati superficialmente nel primo mese dopo il trapianto. I concimi azotati sono molto popolari perché garantiscono un vigoroso sviluppo vegetativo. Vanno utilizzati in quantità moderate perché l'abuso favorisce la proliferazione di patologie e parassiti. Urea, nitrato ammonico, nitrato di calcio, calciocianamide sono i concimi azotati più diffusi. La calciocianamide è un concimi adottato a cessione lenta, sfruttato da sempre per le proprietà repellenti e tossiche contro gli insetti del terreno e i roditori. Va distribuito diverse settimane prima del trapianto, su terreno umido, per evitare che danneggi le piante. Considerata la sua tossicità anche per alcuni organismi utili, suggeriamo di utilizzarla solo in caso di reale necessità. Quando si distribuiscono i concimi in post-trapianto, quindi in presenza delle piante, è fondamentale evitare il contatto con fusto e foglie per non incorrere in problemi di causticità. Dopo un leggero interramento del fertilizzante è bene fare seguire un'irrigazione abbondante. I terreni dove gli ortaggi risultino poco saporiti e i frutti poco dolci solitamente sono poveri di potassio. Apportare questo elemento con la concimazione permette di avere bacche più saporite e piante più resistenti. Nei terreni carenti il potassio si può distribuire con la concimazione di fondo, ma è possibile intervenire anche in pre-trapianto oppure in fase di ingrossamento dei frutti. Tra i concimi a pronto effetto, oltre ai classici prodotti chimici come i nitrati, sono molto efficaci i macerati che è possibile preparare in casa, utilizzando fertilizzanti come lo stallatico o la pollina. I macerati sono una risorsa molto importante per le specie più esigenti, durante il primo mese di sviluppo nella fase di costruzione della pianta. Sono anche un eccellente ricostituente per le piante bloccate da stress climatici o carenze nutrizionali. Le specie che si giovano maggiormente dei benefici dei macerati sono peperone, melanzana, sedano, finocchio, anguria, melone, carciofi, cavoli. I macerati vanno applicati con regolarità, settimanalmente, con l'irrigazione, per tutto il mese successivo al trapianto. I macerati possono essere utili anche per gli ortaggi meno esigenti, come lattughe, cicorie, vietole e altri, qualora la loro crescita fosse troppo lenta. Preparare un macerato con stallatico o pollina è molto semplice. Conviene farlo lontano dalle abitazioni, però, per limitare il disagio dovuto all'odore sgradevole emanato nella fermentazione dei prodotti. L'impatto positivo dei macerati sullo sviluppo delle piante può indurre ad abusarne, prolungando le applicazioni nel tempo, nel tentativo di raggiungere risultati sempre migliori. Continuare con i macerati, quando le piante sono ormai prossime alla produzione, però, è sconsigliato, perché possono stimolare uno sviluppo eccessivo della vegetazione a discapito dei frutti, oltre a favorire l'insorgenza di ipotologie e problemi alle bacche. L'efficacia dei macerati è molto maggiore con le piante giovani, intervenendo tempestivamente in soccorso di quelle in crisi. Ciò non toglie che a volte si resti sorpresi dei risultati incredibili, anche con ortaggi improduttivi e quasi dati per spacciare. Siamo arrivati praticamente al termine della nostra video-lezione sulla concimazione dell'orto. Spero che sia stata d'aiuto soprattutto ai principianti, per apprezzarne l'importanza e per gettare le basi per ottenere rapidamente un orto veramente sano e produttivo. Vi saranno rimaste sicuramente anche molte domande sui prodotti, su quali utilizzare, e per trovare una risposta semplice vi consiglio di recarvi dal vostro rivenditore di fiducia, che vi suggerirà quelli più indicati in funzione delle caratteristiche del vostro terreno e anche delle specie che volete coltivare. Vi daremo tante altre informazioni sulle esigenze delle singole specie nelle prossime video-lezioni. Ora torniamo un attimo nell'orto per un ultimo suggerimento pratico prima di salutarci. Guardando crescere le piante del nostro orto dopo averle concimate, è normale chiedersi se il nutrimento a disposizione è sufficiente o se sarebbe consigliabile apportarne ancora un po'. Osservare il loro sviluppo ci farà capire se intervenire ancora oppure se hanno un nutrimento a sufficienza per completare il loro ciclo. Grazie per la vostra attenzione e buon orto a tutti!